Ringraziamo ancora il consigliere e adesso prima del bis, quindi prima della chiusura, vorremmo presentare tutti quanti i protagonisti di questa serata, di questa serata insieme, di questa serata della nostra banda e li presentiamo per sezioni. E allora per la sezione flauti, Anna Salvano, Miriam De Giovanni e Serena Correggio. Per la sezione fagotto, Giulia Danielli, sezione clarinetti, Alberto Pane, Antonio Santinelli, Gianfranco Omerio, Ilenia Bellan, Luca Ghio, Marco Lasagna, Maria Prevosto, Mario Sattanino e Valentina Musso. Sax soprano, Massimo Sattanino, Sax contralti, Alex Borcilla, Gaia Grisolio, Isabella Trevisi. Sax tenori, Michele Di Muro, Stefano Borgo. Sax basitano, Renzo Golo. Sezione trombi, Adriano Impera, Andrea Ottenga, Giovanna Nobile, Marco Carretto e Marco Firino. Sezione corni, Aldo Viarengo, Carlo Durando, Marco Scassa, Paolo Meda e Sergio Cantatore. Sezione bombardini, Andrea Cerrato e Mattea Borga. Trombone, Davide Tavecchia, Enrico Ughini, Giancarlo Bottino, Giampiero Malfatto, Renato Cellino. Sezione passitiva, Antonio Stilo, Giovanni Battista Tiberini. Sezione percursioni, Alessia Forchedu, Maurizio Vespa, Matteo Revizza, che è anche sezione contrabbasso. E ovviamente la nostra maestra, anzi il nostro maestro, Chiara Santi. Allora, ora ascolteremo il bis e poi vi chiedo di rimanere fermi perché vi daremo le istruzioni esatte e minuziose per poter defluire dalla piazza.